Ma non ti so dire di che anno è, se hai fruttato o no. No, vabbè, visto che già comunque hai un indicatore natura, se poi ci studi... Non fare video perché ti picchio a sangue, Gioia. Non fare video. Troppo tardi. Troppo tardi. Sai che si vede troppo scuro, aspetta. Niente, impari, spegnilo. Infatti mi sembrava più bella. Queste telecamere. No, non tu, non tu. Sì, sembrava tipo ripresa. Brutta canaglia. Queste telecamere, perché non le porti quando io e la tua ragazza dobbiamo fare i fotoset e i video per i fan, eh? Sì, certo, sicuramente. Sì, 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 sì. Sei una canaglia, sei una canaglia.